Ma non le hai mai usato? No, non me lo trovo Non me lo trovo Non c'è un secondo me lo trovo Benissimo Tu come stai? Ma questo è il mio di papiglia Non è la propria cacere E c'è il Marco E c'è il mio di papiglia E c'è il mio di papiglia Buon lavoro Grazie.